Stefano Carone, founder e managing partner di Il Prisma, benvenuto. Dottor Carone, eccolo qui. E anche a lei, benvenuto, le chiedo in che modo Il Prisma si sta impegnando attraverso il progetto Cantiere Sostenibile per generare un impatto proprio positivo sul territorio. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, noi ci occupiamo di progettazione anche in ambito di spazi di lavoro. Cerchiamo di, quando progettiamo questi luoghi, di creare un'esperienza positiva, ingaggiante, memorabile per le persone che lavoreranno in questi luoghi. Siamo sempre chiaramente attenti a tutti gli aspetti di sostenibilità, gli aspetti della qualità delle scelte progettuali e dei materiali. Il nostro punto di attenzione è sempre l'essere umano, è anche il nostro slogan, design human life. Ci siamo accorti però quando tu metti una sticella così alta ai tuoi obiettivi, vengono fuori anche le contraddizioni. Nel corso degli anni abbiamo deciso di affrontarle e provare a risolverle. Quindi, per esempio, una prima contraddizione che abbiamo riscontrato, che anche a fronte di progetti che poi hanno il massimo livello di sostenibilità, di attenzione all'essere umano, uno dei luoghi meno sostenibili e meno piacevoli per chi ci lavora è il cantiere. Quindi è tutta la fase della costruzione per arrivare a quel punto. Ci è sembrato giusto rimmaginare anche l'esperienza del cantiere. Quindi nei nostri progetti abbiamo impostato anche un'attenzione particolare alla qualità della vita dei lavoratori che lavoreranno in quei luoghi. Quindi pensando ai luoghi dove potranno mangiare in un posto piacevole, a disponibilità gratuita di acqua, caffè, frutta, luoghi dove potersi riposare o poter pregare a secondo dei propri culti, delle proprie religioni. E un secondo aspetto altrettanto importante era che spesso queste sedi di queste aziende che noi progettiamo sono magari in luoghi borderline, non necessariamente in luoghi come questo, diciamo, stupendi, ma magari in delle zone di sviluppo delle città. E quindi i progetti che facevamo anche per questi nostri clienti venivano magari vissuti dal quartiere un po' come dei corpi estrani. Allora ci è venuta l'idea di proporre ai nostri clienti di fare qualcosa anche per il quartiere in cui insisteranno le loro future sedi. Quindi abbiamo deciso di dedicare una percentuale del nostro compenso a dei progetti sociali che vengono identificati all'interno del quartiere e che vengono proposti ai nostri clienti che poi loro sceglieranno quale di questi progetti gli è più affine. Quindi si passa da riqualificazione di aree urbane a progetti per rifugiati, sostenibilità e attenzione magari ai problemi degli immigrati, delle famiglie con disagio, eccetera. E abbiamo proposto anche ai nostri clienti di raddoppiare questa cifra mettendoci anche loro una parte di questo investimento. Ne abbiamo già realizzati due a Milano, in due zone di sviluppo molto interessanti però ancora appunto a macchia di leopardo, uno per la società Acqua di Parma e uno per il gruppo WMASC, quindi il gruppo Wittono. Sono due nomi che come potete immaginare evocano lusso, evocano bellezza, eccetera. E ci fa molto piacere che non vengono visti dal quartiere come diciamo soltanto delle oasi protette chiuse ma che vengono viste anche come delle opportunità di miglioramento del quartiere stesso. Bene. Grandi progetti anche futuristici, direi, quindi su cui dobbiamo lavorare tutti insieme quindi l'invito è lavoriamoci insieme. Ah, con un grandissimo piacere, siamo qua apposta. E peraltro anche progetti internazionali, no? Sì. Quindi diversi, senza far nomi, ci sono grandi aziende che... Sì, no, lavoriamo in tutta Europa, anche in Medio Oriente. Fantastico. Grazie mille. Allora premiamo Stefano, anche con il libro. Il dottor Stefano Carone, il Prisma. Grazie a lei per essere stato qui.